Ricordiamo che in serata si conclude con il Memorial Biagiolo Verde, in ricordo del grande allenatore e guidatore palermitano, scomparso prematuramente e l'allevamento di Vergiano è stato uno di quegli allevamenti che gli ha consegnato diversi soggetti di spessura. Sette concorrenti al Via, un po' di difese caratteriali per il numero 2 Gandhi, sbaglia Gloria Griff, chiusura delle ali con Giannone OV-Brown che emerge, sbaglia anche Garkon P, Garkon M e così Giannone OV-Brown al comando, Gengis Khan in seconda posizione davanti a Giorgia Gain, più dietro John Dollar, lancio in 14 e 2, Gengis Khan Glory attacca a fondo il leader Giannone OV-Brown lo sopravanza con mezzo giro sul piede dell'uno 13 e mezzo, 36 e 7 per i 500, notevole 44 e 3 per i 600. Gengis Khan Glory da favorito al comando, seconda posizione per Giannone OV-Brown, molto su di una guida, poi Giorgia Egin a precedere Gloria Griff che ha recuperato l'errore iniziale, un minuto scarsi per gli 800, chilometro ultimato in 1,14 secchi. per questo figlio di Laviou che viaggia con circa 20 metri di vantaggio su Giannone OV-Brown e Gloria Griff, tre quarti di miglio ultimato in 1,28 e 7, che velocità! Gengis Khan Glory entra in retta d'arrivo con margine abissale e va a concludere molto ma molto bene, mentre Giannone OV-Brown riparte sulle dritte e conquista la piazza d'onore davanti a una comunque valida Gloria Griff, 1,59 e mezzo, media di 1,14 e 7, veramente un'esibizione sopra le righe per Gengis Khan Glory, da Laviou e Caviartelle, Tim Squeglia al training, Nunzio Squeglia alla proprietà, Vincenzo Gallo, in Salchi. Buon secondo posto per Giannone OV-Brown, tre corse, tre piazzamenti, in questa circostanza è passato dai due terzi ad una piazza d'onore, Gloria Griff corre ancora una volta molto bene, però è costretta a rimediare all'errore iniziale, per cui prestazione che le consente solo un terzo posto. Grazie. 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 Grazie.